La DG dell'ASL VCO, Chiara Serpieri, parla del punto Bimbi del San Biagio, la cui apertura era stata promessa, a dicembre, dal presidente Cirio. Il punto. La dottoressa ci permetta di chiedere ancora due cose. Il grosso problema della lista d'attesa è il punto Bimbi, che noi siamo andati a verificare, ci sembrano un po' in più. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Beba Steck House, a Ornavasso.